Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi racconto un po' cosa sono riuscito a fare. Alla fine per questa settimana mi sono organizzato così. Mi sono allenato sempre la mattina intorno alle 10-10.30 per circa un'ora, un'ora e mezzo. Tre volte questa settimana. Il primo allenamento è stato diviso in due parti. La prima parte era il campo scuola a lanciare il peso. Mentre la seconda parte ho giocato a tennis contro un muro. Secondo allenamento, solo tennis. Ultimo allenamento della settimana, camminata veloce. Visto che ho ricevuto tantissime risposte alla mia richiesta della scorsa settimana di raccontare il vostro sport durante il lockdown, ho deciso di fare più episodi. Il primo episodio uscirà martedì prossimo alle ore 14. Inoltre vi invito a continuare a mandarmi video mentre raccontatevi il vostro sport o la vostra attività sportiva o lavorativa nel settore sportivo durante la pandemia. Grazie a tutti intanto per la partecipazione e noi ci vediamo nella prossima pausa caffè. Grazie a tutti! Ciao! Grazie.